Mirko Ceci, sindaco di Pietralunga, città che in questo fine settimana, sabato 12 e domenica 13 ottobre, proporrà la 32esima edizione della mostra mercato del tartufo bianco e della patata, un abbinamento inusuale, però ricordiamo che proprio a Pietralunga c'è la famosa patata bianca che si abbina perfettamente a un'altra eccellenza del territorio, quale il tartufo bianco. Abbinamento inusuale, ma sicuramente vincente, soprattutto all'interno del mondo della ristorazione, perché è un connubio veramente che permette di degustare due eccellenze del nostro territorio insieme. Poi questa è una stagione particolarmente profumata, perché il tartufo abbonda in buona quantità e anche come qualità, e pertanto sarà sicuramente un weekend all'insegna del bene e del buon mangiare, all'insegna dei prodotti di eccellenza del nostro territorio. Tartufo e patata è un abbinamento che magari nel resto d'Italia è un po' inusuale, invece a Pietralunga è veramente una primizia. Se ci può accennare qualche possibilità di abbinamento? La patata di Pietralunga, guarda, viene gente che prima carica le patate, quindi mettiamo a disposizione qualche signore che gli dà una mano col carrellino, perché ovviamente sacchetti da 5-10 kg non è un tartufo che lo porti via sul piccolo fagottino, e è molto richiesta e come noterete è su moltissimi menu dell'area Umbra e anche Toscana, perché è una patata veramente particolare. Diciamo che l'abbinamento è semplice, facciamo la festa degli gnocchi, verrà Anna Moroni da ricette italiane, l'ex di prova del cuoco, farà uno show cooking dalle 12 in poi e faremo un fantastico gnocco con patata di Pietralunga al tartufo bianco, quindi chi vuole venire ad assaggiare, quei pochi chili che riusciremo a far bollire, li daremo ai spettatori. Quest'oggi è la presentazione della 32esima edizione della mostra a mercato del tartufo bianco e della patata di Pietralunga, lo chef Simone Ciccotti, perché in questa occasione riproporrà un evento che già da poco tempo è stato svolto, con grande successo, magari proprio per questo verrà riproposto, uniti per una giusta causa in cui appunto tanti chef stellati, da lei coordinati, organizzeranno questo evento per le vie della città per una giusta causa. Ecco, quale sarà in questo caso i destinatari del raccolta fondi e come si svilupperà la giornata. Questa volta l'evento ha come obiettivo la promozione del territorio di Pietralunga e soprattutto di aiutare e a realizzare il sogno di chi con le proprie forze non ce la fa. Inoltre ci impegniamo a comprare un defebbrillatore per una scuola che ne è sprovvista. Saremo sempre uniti per una giusta causa. Solid Art, l'arte della solidarietà, sarà una staffetta. Alle 13 inizieremo con uno street food di tantissimi chef stellati e nonne, che delizieranno con i prodotti tipici di Pietralunga, quindi utilizzando soprattutto olio tartufo e patata. E poi dopo alle 20.30 ci concentreremo per la scena di gala che in parte Giuliano Tartufi e Solid Art aiuteranno a chi ha meno possibilità di realizzare un sogno. È una grande iniziativa perché è veramente difficoltoso mettere 20 o 30 chef abbastanza importanti per le vie del centro, trovare la giusta location e presentare benissimi i loro piatti. Ci proviamo, tentiamo di fare questa operazione che verrà sicuramente bellissima. Se il tempo ci assiste verrà una domenica fantastica perché, come hai detto bene, abbiamo già provato e sperimentato. Alcuni piatti sono veramente fantastici, quindi chi viene a fare una passeggiata a Pietralunga, oltre ai circa 60-70 stand di vendita di cibo, tartufi, stand gastronomici di vario genere, troverà anche questa bellissima passeggiata per le vie del centro, in cui potrà, con una cifra molto modesta, apprezzare tante specialità, tendenzialmente quasi tutte al tartufo. Il tartufo è importantissimo per il nostro territorio in quanto è promozione, ci fa conoscere, quindi non è soltanto un prodotto da mangiare, ma è anche un'identità del territorio. Noi dobbiamo molto lavorare su tutte le mostre mercato dell'Umbria, perché questo è importante fare rete, soprattutto a livello di comunicazione, proprio perché questo ci permette di andare anche oltre i confini regionali.